oddio non c'è se crede non c'è se crede non c'è se crede non ci si crede pure zappa costa pure zappa costa venti minuti giocati mamma mia non ci sto a credere ragazzi non ci sto a credere non ci sto a credere io non ho parole non ho parole c'è zappa costa si è rotto il crociato pure lui pure lui tutti tutti allora allora calmiamoci un attimo mi spiegate che cazzo c'hanno i tersini quando vengono a roma che cosa gli prende cosa gli succede quale macumba gli fanno qualcuno me lo deve spiegare qualcuno me lo deve spiegare perché non è possibile che negli ultimi cinque anni ci saranno stati qualcosa come otto rotture dei crociati tutti di tersini tutti 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 florenzi due volte karsdorp due volte zappa costa emerson palmieri mario rui rudiger che giocava tersino ma come si fa ma come si fa cioè la cosa assurda la cosa assurda è che non possiamo dare la colpa a uno stracazzo di nessuno se non la sfiga perché le rotture dei crociati sono casuali non dipendono dal dalla preparazione da questo da quell'altro ma dalla sfiga ma io mi chiedo ma come è possibile ogni volta che prendiamo un tersino per mettere florenzi esterno ci si rompe ci si rompe ci si rompe sempre è una costante karsdorp per sostituire florenzi rotto se va via karsdorp prendi zappa costa rotto arriverà un giocatore che magari in 30 anni di carriera non si è mai rotto niente arriva la roma rotto zappa costa finora non si era mai fatto male o perlomeno mai infortuni seri arriva da noi gioca 20 minuti sta fuori un mese torna tra i convocati il giorno dopo casualmente si rompe il crociato ma vi rendete conto ma io io sono allibito sono veramente allibito non so neanche cosa pensare perché finché tu dici un giocatore è frasico ok ma un giocatore che ha fatto l'intera preparazione con il celsi e non mi pare che stanno avendo grandi infortuni finora viene alla roma e si rompe il crociato si rompe tutto tra l'altro pure il polso ha detto che si è fatto male tutto tutto mettiamoci anche le palle mettiamoci l'orecchio frattura dell'orecchio ma per favore ma per favore ma come si fa veramente cioè rimango allibito rimango senza parole senza parole allora voi mi dovete spiegare fonseca come cazzo fa a far giocare bene e a dare continuità alla sua squadra se ogni partita se ne rompono tutti si rompono tutti si rompono tutti un allenatore ha la sua prima esperienza veramente importante in una squadra in ricostruzione che non ha tutto il budget del mondo e molte persone l'hanno rifiutata perché appunto non è in champions league e non ha la pill di qualche anno fa e già questo è un problema arrivi a roma ti fanno una squadra buona ogni giornata ti se ne rompe uno cioè allora si sono rotti un der per un mese anche più pellegrini due mesi mkhitaryan tre settimane perotti due mesi zappacosta crociato spinazzola un mese oh oh ma che è sta storia ma che è sta storia me lo dovete spiegare me dovete spiegare com'è possibile che tutti quelli che vengono qua si rompono perché ok molti mi danno la colpa alla preparazione della roma ai campi di trigoria ma vi ripeto che zappacosta ha fatto tutta la preparazione al celsi quindi non lo capisco non capisco una cosa del genere molti l'anno scorso dicevano eh la preparazione in america fa rompere tutti stanno abbiamo fatto la preparazione in america no ricordate ma ci siamo stati no no non ci siamo stati infatti si è visto i miglioramenti si sono visti i grandi miglioramenti tutti rotti di più più dell'anno scorso voi non ci avete fatto caso ma con questa media arriveremo a qualcosa come 60 infortuni a fine anno 60 infortuni perché in un mese già siamo a 11 e considerando che speriamo in qualche mese ce ne saranno di meno più o meno la media è questa perché giocheremo 7 mesi più o meno il rischio di arrivare a 60 infortuni circa è elevato tra l'altro complimentoni ad una pagina facebook di cui non faccio un nome perché non voglio magari fargli cattiva pubblicità perché sicuramente non l'hanno fatto apposta il 3 settembre hanno fatto un post scrivendo zappacosta sia già problemi per zappacosta nell'ambientamento a roma ancora non si è rotto il crociato eccolo eccolo il crociato che arriva come se tutti quanti lo stessero aspettando ma stanno ma manca qualcosa l'anno scorso un carstorpe due anni fa un rudiger mario rui che manca non mi ricordo arriva il crociato ehi ragazzi vi sono mancato zappacosta vieni qua dai hai giocato solo 20 minuti non sarebbe un problema se non ne giochi più nessuno con la maia della roma e rottura del crociato pure a lui ma io non mi preoccupo non mi preoccupo perché a gennaio data in cui il giocatore al 90% tornerà a celsi e in questo caso il prestito di sei mesi diventa una benedizione pensate se l'avessimo preso a titolo definitivo non mi fate pensare non mi facevate pensare però tornerà lui tornerà brunetto ceres e se torna brunetto ceres ragazzi c'è da c'è da applaudirlo perché veramente sarà il salvatore della patria come ci ha salvato con lo shaktar con fonseca in panchina tra l'altro voglio vedere proprio quando si incontreranno quello che succederà salverà la patria anche quest'anno ridiamo per non piagli veramente allora che vedevo di un saluto dal vostro glettore giallorosso vaffanculo scusate non volevo dirlo ma l'ho detto basta mi dispiace per zappacosa guarda ti sono col cuore vicino ma quando sei venuto alla Roma per fare il terzino titolare sapevi che prima o poi sarebbe successo in questo caso molto prima che poi ciao ragazzi grazie grazie grazie